Lavellino ha scelto i numeri ufficiali di maglia per la prossima stagione sportiva. Russo avrà il 10, il bomber patierno si è assicurato la 9, mentre il centrale Cionec, ex capitano della regina, ha scelto la numero 26 per questioni effettive legata al figlio e al padre, così come da lui stesso affermato in conferenza stampa nel giorno della presentazione. Ma andiamo per ordine, i portieri Pane, Ghidotti e Pizzella hanno scelto rispettivamente l'1, il 22 e il 12. In difesa Ricciardi ha preso il numero 2, capitano Tito il 3, il 5 per Benedetti, il 7 per Falbo, mentre all'ex Catanzare Monopoli Moulet va il 13. Cancellotti lo scorso anno al Pescara prende il 14, uno degli ultimi arrivati in regione ha optato per la 16. A centrocampo Dalloglio che ha voglia di riscatto ha confermato la 23, la 6 va a Palmiero, il 17 per Maisto, il 18 per Mazzocco, D'Angelo ha ripreso l'Amato 27, 21 per Matera, 33 per l'ultimo arrivato Pizzella. E altri due trequartisti, Varela e D'Amico hanno preso rispettivamente l'8 ed il 77. In avanti l'11 per Sgarbi, Trotta conferma il 29, 31 per Marconi e 28 per il partente Plescia.